e bella boys e benvenuti su questo nuovissimo video faccio questa brevissima intro ragazzi semplicemente per ricordarvi che in descrizione di ogni mio video, anche di questo qua appunto, trovate i link per i miei social quindi Instagram, Facebook e Twitter dove vi tengo aggiornati su qualsiasi tipo di news, trovate anche i link in descrizione per le mie live streaming perché io stream ogni giorno, non su Youtube ma su un altro sito, poi ragazzi anche per dirvi di lasciare un bel mi piace a questo video per farmi capire che il video vi sia piaciuto e che mi supportate, quindi ragazzi cotetevi il video un bacione e let's go baby posso? 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 grazie è molto difficile Adriana! no! uh! baby no! 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 facciamo così va ok e niente 3 gas by the way c'è boy c'è boy c'è boy c'è boy c'è boy c'è boy oh c'è boy infatti non avere pure scildini con me la cosa un po' mi mi trigga la prova non si può avere tutto dalla vita no no wait what no 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 Mi date degli scildini, please Per l'amore di Dio Per l'amore di Dio Per l'amore di Dio Ok, game Ok, sono una fottuta Una deficiente proprio Per l'amore di Dio Ok, il piramanto l'ho buttato ragazzi, lo so, però non è un problema Ecco perché l'ho buttato più davanti ragazzi Sapevo che l'avrei ritrovato Capito come ragazzi? No, non è vero Ok, ragazzi, questo è un push che non andrebbe mai fatto, ok? Mai Però siamo in una partita normale Cioè aspettare senza fare niente è bruttissimo No, non è vero Mi sa che t'ho laserato la capocchia No, please Io sto letteralmente sprayando col bloom Non sto facendo col tazzo destro a mirare e aspettare Letteralmente questo è bloom Bloom ragazzi Questo è bloom Puro bloom Non sto facendo nient'altro Non è che sto facendo tipo così A ping, ping, ping Cioè no, no Bloom, puro bloom GG boys Dici bomba Dai Mamma Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.